Siamo con l'ingegner Palmerino Iannuzzi al convegno efficientamento energetico e fonti rinnovabili organizzato dalla Simac Solar. Allora, ingegner Iannuzzi, quale ritieni siano le prospettive future per questo settore e come soprattutto gli appartenenti al suo ordine appunto applicheranno poi dati e argomenti così sensibili oggi che sono meno male sotto i riflettori e sotto gli occhi di tutti? Beh, innanzitutto è un momento in cui la stragrande maggioranza della popolazione si sta iniziando a rendere conto che c'è bisogno di una necessità di un efficientamento che poi è fondamentalmente legato al risparmio, lo vede come un risparmio economico direttamente. Quindi sia come ordine sia anche come aziende che si occupano delle cose è il momento opportuno per incentivare, far capire all'utente sia esso piccolo imprenditore sia esso privato, diciamo domestico, la necessità di far diminuire quelli che sono i consumi energetici dei propri appartamenti come dispersione termica, consumi elettrici. Efficientare significa vivere meglio, vivere bene e salvaguardare l'ambiente anche perché se usiamo fonti rinnovabili e così come ci impongono le norme a livello mondiale, partiamo da lontano, da Kyoto eccetera, dobbiamo praticamente annullare l'utilizzo di fonti fossili come carboni, idrocarburi in genere ed altro. Per cui dobbiamo quanto più sensibilizzare sia colleghi, tecnici, il mondo dell'industria, tanto più la clientela, che sia essa pubblica o privata, ha ad efficientare e quindi a muoversi in questo senso. Quali sono le ragioni che poi portano a una realtà quale Simax Solar, che si occupa di fonti rinnovabili, di energia rinnovabile, a rivolgersi poi a categorie specifiche, tecnici come architetti, ingegneri, commercialisti, agronomi e consulenti del lavoro? Sì, abbiamo pensato di coinvolgere tutte queste categorie professionali perché riteniamo che il territorio è pronto a recepire tutte le opportunità derivanti dal risparmio energetico e che il cliente finale, o esse industria, o essere privato, commerciante, che dir si voglia, ha bisogno comunque di un conforto, di una convalida del proprio professionista di fiducia perché non basta che l'azienda rappresente le opportunità di sviluppo derivanti dall'efficientamento energetico, ma ha bisogno che questo venga comparidato dal proprio tecnico, il quale, se non è abbastanza a conoscenza, non può certamente dare quel conforto e quell'assenso che merita un progetto così importante in questo periodo. Le prospettive future sulle detrazioni e su, in generale, l'utilizzo della leva fiscale per favorire l'efficientamento energetico e quindi ridurre l'entità di CO2 in atmosfera è sicuramente un principio cardine di tutte le legislazioni europee e occidentali in generale. Per cui si prevede assolutamente un allargamento di questi incentivi che utilizzano la possibilità di usufruire di detrazioni fiscali per impiantare e realizzare progetti sempre più efficienti. Soprattutto è una questione di come approcciarsi al problema, nel senso che fino ad oggi sostanzialmente l'approccio è stato più che altro di inseguimento a quelli che potevano essere dei parametri stabiliti da comunità europea da rispettare in certi termini per questioni normative che per vera volontà di accettare la filosofia dell'efficientamento energetico. Questo appunto, come ho detto prima, ha comportato grossi problemi, che si sono investiti un fiume di soldi in interventi che sì che hanno apportato dei valori di efficientamento energetico, che però sono stati approcciati in maniera sbagliata perché a fronte dei risparmi conseguiti gli investimenti fatti erano eccessivi, che certamente da un punto di vista ingegneristico non garantivano i tempi di ritorno che normalmente vengono presi in considerazione per valutare questo tipo di interventi. La cosa positiva è che piano piano sta cambiando l'atteggiamento e la filosofia, dove non è più solo vista l'aspetto relativo all'efficienza energetica in termini economici, ma anche in termini filosofici e quindi anche l'importanza dell'abbattimento degli inquinanti che costituiscono una problematica nei prossimi 30-40 anni sarà determinante per la vita di tutti e quindi anche di noi. Sì, oggi abbiamo fatto un po' quel punto della situazione su quella che è l'efficientamento energetico e quali sono le opportunità che si potrebbero creare in sinergia con gli ordini che è appena citato, perché credo che solo in sinergia si può raggiungere davvero gli obiettivi per quello che è l'efficientamento energetico degli edifici, delle aziende e, perché no, del residenziale. Allora, Rino, quali sono le prospettive future e quali sono le azioni che Simac intende mettere in atto per poter poi raggiungere questi obiettivi di efficientamento energetico? Allora, quello che oggi noi stiamo anticipando alle persone presenti qui al convegno è che sono in essere delle opportunità interessanti, quindi dei bandi volti innanzitutto dalla regione Campania, quindi degli avvisi su quello che è il mondo dell'efficientamento energetico. Il governo centrale ha messo in piedi già dei contributi per quello che è la mobilità elettrica, quindi tutti argomenti interessanti volti a quello che è efficientare e quindi avere un risparmio concreto anche nel mondo della mobilità elettrica. Quindi oggi in essere anche importanti agevolazioni, detrazioni fiscali, non solo per le abitazioni residenziali ma anche per le aziende? Sì, anche per le aziende. Infatti in sinergia con i commercialisti avremo modo di mettere in piedi e quindi approfondire quello che è il credito di imposta, che è stato anche parlato oggi dal dottore magistrale, quindi ha toccato dei punti interessanti che avremo modo poi di sviluppare con l'ordine dei commercialisti e quindi con i commercialisti presenti per creare le opportune sinergie per dare una possibilità in più alle attività commerciali per dare una svolta su quella che è la loro attività.